Abbiamo commentato anche questo incidente che è accaduto qui a Roma fra questi ragazzi che nelle loro scellerate follie, iper promozionate dai social, purtroppo si sono trovati nel teatro di un incidente molto grave dove ha perso la vita un bambino. Noi, come abbiamo già detto ieri, non entriamo nel merito delle colpe, dei torti, dei concorsi di colpa, della dinamica dell'incidente. Una cosa la sappiamo per certo, e cioè che visto le foto dei rottami è ovvio che quella Lamborghini guidata da questi ragazzi non poteva andare alle velocità di codice all'interno delle città, non andava di certo a 50 all'ora, perché altrimenti un incidente così non lo fai. Quindi di sicuro stavano violando almeno questa cosa che è quella che poi può avere determinato anche la disgrazia, la tragedia che c'è stata al di là dell'incidente. Ma noi non entriamo nel merito tecnico delle ragioni dei torti, lo stabiliranno le indagini, lo stabiliremo le indagini, noi entriamo in un altro merito che è quello proprio del... Ma insomma, fra le strategie di chi ci vuole dominare c'è anche quella di promuovere, alimentare, pagare, strapagare persone che inducono a queste cose estreme, a queste sfide che nulla hanno né di sportivo né di etico, neanche di divertente se vogliamo, è soltanto una pazzia che chissà cosa genere. Ecco, molte persone ci chiedono, Alessandro in primis e poi anche ai nostri altri ospiti, ma ovviamente Alessandro è uno psichiatra, cosa scatta nella mente delle persone per amare queste cose, per far sì che queste cose poi vengano viste, che ci sia una sorta di guardare dal buco della serratura queste sfide estreme, inutili, impossibili, che nessun altro di noi può realizzare. Non è come un'attività sportiva, un record, un qualcosa che uno fa e che anche altri possono lo fare, sono attività costosissime, ti devi costruire la zattera e vivere in mezzo al mare per 50 giorni al limite della sopravvivenza, ma che cazzo, non è una corsa campestre, i 100 metri o una gara sportiva dove tutti possiamo ambire a misurarci, a costo zero per altro, o a costo bassissimo, no, queste fanno delle sfide buttando via cifre folli per raccogliere persone che vanno a guardare sta puttanata. Ecco, cosa ci dice il cervello Alessandro per seguire questa roba che poi crea danni che vediamo? Prima ancora che citare degli neurologi o degli psichiatri, cito un filosofo di cultura ebraica del 600 che passa per essere uno studioso del materialismo, quindi con opinioni molto lontane da me che sono invece più legato a una visione spiritualista della vita, che è Baruch Spinoza e che diceva che uno degli elementi dominanti già nella sua civiltà era quello del dominio delle passioni tristi. Quali sono le passioni tristi? Sono quelle che non hanno il costrutto della vita, sono quelle che non hanno l'intelligenza del cuore, sono quelle che non hanno le emozioni che unisce l'intelligenza della mente, che quanto mente talvolta spesso mente con l'intelligenza del cuore che invece ricerca delle verità profonde, appartiene all'intelligenza del cuore, l'amore di una madre per il bambino che è appena scodellato fuori dalla sua pancia e che attacca il seno, appartiene al mondo delle passioni del cuore e l'innamoramento di un uomo per una donna che accetta coerentemente di vivere una passione che ha al tempo stesso fisica, mentale, animica. appartiene all'intelligenza del cuore e l'amicizia, quella filia, quel piacere che abbiamo noi a stare insieme tra pari ad un'unica mensa e a dividere la stessa parola, la stessa cultura, le stesse emozioni, lo stesso cibo se possiamo, lo stesso olio della sabina, lo stesso panino mangiato semplicemente ad una sorgente d'acqua di montagna. L'intelligenza invece delle passioni tristi è qualcosa che rimanda ad una dimensione ora tendenzialmente superominica, cioè del volere appartenere ad una parte d'umanità di cui non fa parte l'insieme dell'umanità. E allora voi capite che se c'è un multimiliardario che ha guadagnato miliardi di dollari vendendo aerei da guerra e che decide di spendere 50 milioni di dollari per scendere a vedere con un battiscafo il relito del Titanic a 3500 metri di profondità, beh questi, lasciatemi dire, sono fatti suoi o cazzi suoi. E quindi non lo giudico perché in fondo ha guadagnato e ha speso per una cosa che veramente gli è costata la vita inseguendo un'idea del superuomo o di quello che vuole lui. Quello che invece è molto più triste di questo, che già mi pare un po' triste in sé, è l'idea che oggi questo mainstream sponsorizzi l'idea di alcuni giovinastri che devono fare cose stupide, che devono farle esibendosi ed esibendosi diventando degli influencer e diventando degli influencer di idiozie devono guadagnare molto denaro e quindi devono diventare dei modelli identificatori per degli altri che hanno la zucca ancora più vuota della loro e che hanno anche, come dire, i portafogli ancora molto più vuoti dei loro. Quindi questa identificazione al peggio che la fisica chiamerebbe entropia o che una volta si sarebbe chiamata semplicemente cattivo esempio, anziché spingere all'emulazione che è l'imitazione dei migliori, lo sport, la competizione scolastica, la gioia, come dire, persino di battersi coerentemente per un ideale, fosse anche un'ideologia politica o un'utopia, diventa invece semplicemente un abbassamento medio del livello dell'immagine di sé che deve essere quindi portata all'imitazione dei peggiori, non dei migliori. Il modello degli influencer è questo e questo è un esempio classico di un giovinastro di cui abbiamo visto che c'è anche dei tatuaggi con delle immagini che rimandano alla pedoperia, figlio di un genitore che vediamo anche egli raffigurato alla guida di una Ferrari senza cintura, che tra l'altro lavora per il Quirinale e quindi anziché, come dire, identificarsi, che ne so, in chi ha affrescato le meravigliose stanze del Quirinale o che se gli piace di più porta la divisa dei corazzieri, preferisce scorrazzare come quelli che prima erano dei modelli negativi come Gasman e il suo giovane Sodale nel sorpasso, che aveva ancora degli aspetti un po' alla James Dean, al selvaggio, al superuomo di massa e in questo caso invece diventa semplicemente l'esibizionismo della coglioneria. Beh, una descrizione direi perfetta. Sentiamo prima Alberto. Alberto, beh, insomma, Alessandro ci ha spiegato bene. Aggiungerei qualche altro dettaglio. Visto che è stato citato James Dean, ricordiamoci, è stato bruciata tanti tanti anni fa, bene o male, il meccanismo di quelli che si sfidavano per correre verso l'abisso con un'auto è esattamente lo stesso, cioè quello che adesso i ragazzi chiamano challenge, quindi non è che è cambiato molto, quindi vorrei ricordare che le pulsioni dell'animo umano purtroppo rimangono sempre le stesse, soltanto vengono amplificate, ma quello che è peggio è che viene moltiplicato proprio dall'uso della rete che permette queste cose e che gli influencer in realtà, o questi, non è che lo fanno solo per esibire una bravata. Lo fanno perché con la monetizzazione su YouTube loro portano a casa anche pure un sacco di quattrini, quindi attenzione, non è proprio soltanto. Poi la seconda osservazione che farei è che questi ragazzi, siccome non sono più abituati a cercare delle sfide nella vita di tutti i giorni, nella vita da studenti, nella vita da giovani lavoratori eccetera eccetera, si rifugiano in queste sfide virtuali in cui cercano di fare le cose più assurde semplicemente per mettersi in mostra, però purtroppo non è nemmeno per mettersi in mostra, è per poter portare a casa dei soldi, per cui poi arriviamo all'estremo, guardare il caso di OnlyFast dove ci sono le ragazzine che mostrando il sedere e le tette guadagnano anche 20 mila euro al mese, dopodiché ti dicono ma io perché devo studiare visto che riesco ad andare avanti così. Allora quindi il fenomeno ripeto è molto più complesso ed è amplificato dalla diffusione assurda dei social media, soprattutto fra i più piccoli e quindi sono i genitori che lo permettono. Ecco Vanni, quindi Alberto dice che queste cose sono sempre esistite, il desiderio di andare a fare una sfida estrema e quindi è sempre esistito, solo che c'è una differenza adesso che mentre prima tu facevi una sfida estrema e ci rimettevi al 100%, cioè era proprio una sfida estrema a tutti gli effetti perché non è che ci guadagnavi danaro, oggi invece con l'avvento di questi signori che monetizzano e promuovono questa roba mentre invece demonetizzano l'informazione, demonetizzano l'informazione giornalistica, d'inchiesta eccetera perché quella per carità guai a farla, ecco è cambiato tutto in questo senso, cioè adesso queste cose sono addirittura incentivate dal danaro che arriva da questi signori che hanno tutto l'interesse a farci diventare una manica di scemi. Guarda la parola chiave l'hai usata tu, cioè sfida estrema, ma la sfida estrema che può essere fatta in tante maniere diverse, può essere fatta in senso spirituale, può essere fatta in senso fisico, può essere fatta in senso di servizio che è una parola che è completamente dimenticata dalla nostra società, ma è una sfida estrema con se stessi, quindi è significativa perché in realtà quello che tu stai andando a testare, ciò che vuoi oltrepassare sono i tuoi limiti per migliorare te stesso e eventualmente per avvicinarti a quel sentire che ti puoi tra l'altro portarti ad emozioni più forti, quello che si vede adesso è diametralmente opposto, cioè non c'è nessuna sfida estrema, è la pura stupidità e nullità che in qualche maniera viene rappresentata, registrata e fatta mangiare alle persone, ma non c'è niente di nuovo in questo, sono vent'anni che esiste un gruppo in America che si chiamava Jackass, che sono quelli che l'hanno iniziato, con questo che entrava in un carrello, scendeva magari lungo la strada e poi si sfracellava sulle macchine ridendo, la gente pensa che sia così divertente, un attimo di intrattenimento e torno sullo stesso concetto che ho usato più volte, ciò su cui i tuoi occhi posano attenzione è il cibo della tua mente, quindi se tu ti nutri una cosa di questo tipo, pensando che tanto una volta che l'ho vista rimane lì lontana fuori da me, ma con me non c'entra niente, ti stai sbagliando, perché tutto quello su cui tu poni attenzione diventa parte di te, a meno che tu non abbia la capacità, avendo sviluppato il libero arbitrio, di lasciarla andare, altrimenti la mente è una spugna ed è troppo importante selezionare cosa questa spugna beve, perciò è fondamentale quello che stiamo cercando di fare qui e anche se la gente vuole che parliamo di cose quotidiane piuttosto di quello, ne parla chiunque, ma in realtà quello che stiamo cercando di fare credo sia di innalzare proprio il livello della comunicazione per far scoprire alle persone che si può parlare, essere e vivere e proiettare se possibile un mondo diverso, perché il mondo non è fatto solamente di questa superficie inutile, dannosa e triste, che l'unica cosa che fa è propagare tristezza e danno, è fatto anche di un qualcosa di differente, grazie a Dio abbiamo la possibilità in qualche maniera di rappresentarlo, un raggio di luce qualcuno se lo prenderà pure. Tra l'altro il raggio di luce è maggiormente visibile quando c'è un buio pesto in tutto intorno, sono perfettamente d'accordo.